Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare i quanto stanno soffrendo e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. Ogni guerra, lo sappiamo, provoca fame e sfrutta il cibo stesso come arma, impendendone dalla distribuzione a popolazioni già sofferenti. In questo giorno, imparando dal principe della pace, impegniamoci tutti per primi quanto hanno responsabilità politiche perché il cibo sia solo strumento di pace.